La spada, il corpo, il mare Il brillante Jack Nessuno è venuto a salvarmi solo perché sentiva la mia mancanza? C'era un tempo in cui i pirati potevano fare a modo loro in questo mondo Ma quei tempi stanno ormai finendo Perché dovrei imbarcarmi con voi? Avete tentato di uccidermi in quattro e un po' ci è riuscito? I nostri nemici si sono uniti e hanno giurato di distruggerci Combattete e morirete tutti I signori dei pirati dai quattro angoli della terra Benvenuti a Singapore Devono far baluardo In tutta la mia vita non ho mai visto una donanza simile Ora gli devo altri soldi Non avrebbe funzionato tra noi Continua a ripetertelo cara Sanno che stanno per estinguersi Non resta loro che decidere dove tenere l'ultimo atto Vuoi sposarmi? Non mi pare il momento più adatto Sei matto? Se non lo fossi non avrebbe funzionato Passiamo Passiamo Windows Passiamo 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 Grazie a tutti.